Ciao, anime belle! Stasera vogliamo pregare in particolare per le persone sofferenti, per tutte le persone che stanno passando un momento difficile nella loro vita, per qualsiasi motivo, magari per una malattia, perché stanno passando un momento di solitudine. Il Signore possa essere per loro consolazione, possa asciugare le loro lacrime. In particolare, il nostro pensiero in questi giorni va alle persone sfollate, le persone vittime dell'alluvione a Ischia. Ringraziamo il Signore per tutti quelli che stanno cercando, sono diventate veramente braccia e mani in aiuto a questa popolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tanta gente soffrente Che chiede aiuto e aiuto non c'è Sulla strada di una vita fatta di dolore Bambini che piangono Bambini che soffrono Bambini che non sanno dove andare Per trovare un po' di pace Di stabilità La sofferenza sembra permanente In un mondo buio e senza cielo Ma c'è qualcuno che Gesù asciuga le tue lacrime Di dolore Il suo amore guarirà Le tue ferite Gesù asciuga le tue lacrime E ti ama Davvero Devi crederci Gesù vuole Abbracciarti E stare sempre con te E stare sempre con te Gesù venne Su questa terra Per caricarsi Dei nostri dolori Lui sa Cosa provi Quando afflitto sei Abbandonato Ricettato Flagellato Il mio Gesù Familiare Col patire L'uomo del dolore Inchiudato Su una croce Dopo tre giorni Ti è risuscitato Devi sapere Che Gesù asciuga Le tue lacrime Di dolore Il suo amore Il suo amore Guarirà Le tue Ferite Il mio Gesù E ti ama Davvero Devi crederci Gesù vuole Abbracciarti E stare sempre con te Perché l'unica speranza È Gesù Vi vogliamo bene Buonanotte a tutti E vi benedico Nel nome del Padre Figlio e dello Spirito Santo Amen Buonanotte Grazie a tutti